L'avanzare della maciola. Ci accompagniamo lì, perché molto probabilmente profitteremo per aiutare anche il suo fratello. Dietro non posso andare, immagino. Allora procediamo. Lì, grazie. Mi sapevo, il bai è qui. Esattamente. E dove c'è il bai? C'è anche l'Inquisizione. Non sei il bai? Proprio simpatica, Mellie. Parlo capito. No. Siete lo conosci? Un scopo. Io lavoravo con lui. L'ho donato. Quindi è la punizione per la scuola? Mettere. Non voglio trovare Arthur con questo tipo di chiamato. Vieni. Andiamo. Mi sopporto, Mellie. Ho aperto questo. E poi andrò a prendere l'arco di Arthur. Allora, quindi... E dove troverò l'Università? È il grande bambino all'altra parte. Non lo capisci. Sì, pensi che... E poi ci sapremo proprio? Spero così. Mi ha dato. C***o! Questo significa che non sei potuto morire. Molto bene. Qua ci separiamo. E' la primissima missione che facciamo completamente da soli. C***o! Abbiamo dell'olio da poter usare in creando dell'inferno. Come non voglio che vada sprecato l'olio perché sembra essere molto importante come risorsa. Qua non posso andare, molto bene. All'olio da inizio. All'olio da inizio. All'olio da inizio. E come c***o fa? Mi ha fatto vedermi. Ma il c***o ha fatto... Merda. È il primo nemico. Come se non fosse successo niente. Dai, avanti. Sì. Ehi, tu in là. Questa è la tua ultima warning prima che ti prendiamo fuori sul tuo cuore. All'olio da. Mi ha fatto che tu puoi prendermi insieme. E' la mia. 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 Si prende anche al Devorantis. Lo creo. Così almeno. Cioè posso prendere il sal nitro. E nella c***o. Abbiamo dell'olio. E... se vuoi. E' la corda. Ottimo. Fantastico. Senti i ratti. Madonna che udito. Senti i ratti. Esatto. Levati. Ottima idea. Perchè mi saliva? Come è? No. Vi vedo qualcosa di movimento. Allora. E' una seconda volta. Ho bisogno di vedere questo. Oh. Ottimo. Salta. Salta. Allora. Lotto della cuffia. Allora. Sì, facciamo che ricominciamo al punto di salvataggio che non voglio vedere morire. Allora, io lo chiamo... e lo seguo. Ok, ora... esattamente... Perfetto. Sì, sta al nitro che... Assolutamente. Ok. 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 Salta. Ok. 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 Andrò a fuoco a ciò, no eh? Bene. Andiamo indietro senza più deviazioni. Avanti. I don't know where I am. But at least I'm still alive. Stay put and keep quiet! What's going on? No! He's my husband! He was your husband! It's all over for him now, so get lost! Not by myself! I can't leave without him! Shut up! You heard a martial law! Wanna die before he died? He's right, Anna. I can't take this. Get out of here! Listen to him! Fuck off! Now! Oh lord! Lord! I need to keep those racks busy. I didn't sign up for this. Sorry. Quanto è morto, il corpo non gli serve più. Sarebbe felice di aiutare, porco di- Hola. Quick as fuck. Oh... Oh... When will it stop? Secondo me ha ripeto qualcosa che fare con la prima macula. Ah! Ah! Di vamos ben toccolo. Oh... Oh! Oh... Oh! Oh... No No Se avessi capito che era un cane non l'avrei guardato Abbiamo troppo ragazze dentro lì, non riesco a entrare senza iniziare il tempo No Parco di... Ah Non mi aspettavo ci fossero le rose ma non... neanche una roba simile Ora Voilà un problema in meno Ok Il nitro Ma mi secca spendere tutta sta roba Che non posso Olio Penso un po' Ma dove cazzo vado? Di qua... ah, bastoncino Per... Di là suppongo O no? O no? Ma risposta no Ma... Ma dove cazzo devo andare? Ma... O no? Ma... Oh... 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 Ah... Oh... Questo è il lo stesso E il terreno è come... Deve essere come... Sì... Oh... Oh... C'è qualcosa vero, credo. Ok. Cazzo, ora ho lavorato con la cesta! Immagino non ci sia modo di tornare indietro. Non c'è per niente Worf. Non c'è per niente Worf. Meno del cuoio. Vabbè. Andiamo avanti. Non vale la pena provare. Ho, ho fatto. Oh, ma non mi ricordo questo. Non c'è per niente. La città. Vedi? Continua andando. Il cemeterio. È in strada. Non voglio veramente andare qua. Non c'è per niente. Ho capito, ma... Locked. Se solo Melly fosse qui... Vabbè. Vabbè, l'Inquisizione deve mettere qui. Ci sembra che la città. Ah. Certo. Il grande Inquisitor non fa cose da parte. Però vedo dell'olio e delle robe fighe, quindi mi disco, ma... Molla. Inquietante, ma... Funzionale. Eh, di più... Ok. Calmo. Ah, quanta roba. Hai ricercato anche qualche upgrade? Sì, come no? Non tiene a mancarmi cuoio e stoffa. Non c'è. Ah, Anna. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Tu devi avere qualcosa... qualcosa di valore. Tutti hanno un sacco. Come on, Amicia. Fai qualcosa. Come on. Eh? What the hell? Magari però dà del lutto, quindi... Così impari quando tu sei la prima ad andare a luttare le cose degli altri o andare a scavare nei loro cadaveri quando li prendi affiondati in testa. Ma va bene. No, 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 non così, cogliona! Sì, vabbiamo fuori. Magister. L'episanguis. Ah, vediamo. Attraversa. No, no, no. Buono lo, chi è bello. No, no, no! No, no ma non la. No, no, no. No, no, no. No, no. Ma sì. E' appena tirato via uno. Non posso... E' appena tirato via. E' appena tirato via. Non posso te mostrar. E' appena tirato via. E' appena tirato via. Bene Un'altra passeggiatina in mezzo ai cadavere, fantastico Vediamolo So if this is Episanguis, right, Episanguis, Episopo, we have to crush them up together Hmm Now, we just have to try it out, Lucas, this one's for you It's working Interessante Sì, l'ho visto, grazie Ma dai Distruggono i nemici Ah, interessante come cosa Vedremo quanto sarà pratica Ovviamente Questa è un attimo, no Ah-ha We don't try now, ok Ahi Grazie Tu vuoi qualcosa però per tirarti su No, cosa, che cosa ti serve Va bene Sarebbe interessante riuscirci senza sprecarne uno Magari Così Così No, non sembra essere possibile Ah, niente Non usarlo Ok Potrebbe essere interessante, ma non credo abbastanza da valerne la pena. Ma va il fanculo. No, 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 no! Ok, questa la spostiamo qui. Quindi, craftiamo un ignifer. Così. Usiamo questi due. Ora. Se io tirassi un odori su... ...la... ...lo tirati andrebbero lì. I odori non mantengono lì per lì. Ho bisogno bloccarli quando e fra. Ah, ok. Così. Sperando che questi pochi rati rimasti non mi rompano troppo i coglioni. Ho capito. ... 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